Ciao a tutti da Vittorio, oggi è il 4 novembre e la Lazio ha già fallito uno dei tre obiettivi stagionali. Uno degli obiettivi poi, secondo me, più importanti, ovvero l'Europa League. La Lazio è riuscita nell'ambizioso progetto di non passare neanche il turno dei gironi. L'anno scorso abbiamo perso al sedicesimo, questa volta abbiamo fatto anche meglio, fuori ai gironi, fuori ai gironi. Un girone che, se andate a vedere il giorno del sorteggio, tutti noi avevamo detto, bel sorteggio, bel girone, qua la Lazio può vincere veramente e arrivare prima. E invece siamo arrivati terzi. E invece siamo arrivati terzi, dopo che la prima di Europa League abbiamo massacrato il Feyenoord, vincendo 4-2 e concedendo i primi due gol dopo il 4-0 nostro, quando la squadra si è rilassata. Sembrava una passeggiata. E lì è dove c'è stato l'errore. La Lazio si è rilassata, colpa anche di Sarri, secondo me, perché questa Lazio ha affrentato le partite di Europa League con il piglio di una squadra che gioca in amichevole. Tranne la prima contro Feyenoord, contro Midgland ne abbiamo presi 5. Contro Stumgraz abbiamo pareggiato 0-0 per miracolo, perché in quell'occasione Provetel fece delle ottime parate. Al ritorno è forse l'unica partita che è andata storta per colpa dell'arbitro. Stavamo vincendo, l'espulsione di Lazio non c'è mai, la Lazio ha portato a casa un punto. Contro Midgland abbiamo vinto, ma veramente per il rotto della cuffia. E contro Feyenoord, mentre loro giocavano come se fosse una finale di Champions, noi giocavamo come se fosse una amichevole infrasettimanale con il Catanzaro. Non lo so, una squadra del genere. Una squadra senza attributi. E primo obiettivo, fallito. Mettiamo già una crocetta. Europa League, addio. Ed era uno dei obiettivi più importanti. Perché l'ho detto più volte, una competizione importante come l'Opera League la devi giocare al massimo. La devi giocare al massimo. E invece, per me, Sarri ha sbagliato. Ha sbagliato perché questa squadra gioca l'Europa League come se non contasse niente. E in quel caso, secondo me, la responsabilità è anche dell'allenatore. Che non ha mandato il segnale giusto. Perché Minicri Savici è stato invisibile. Provedel fa un errore gravissimo. Ragazzi, sì, i giocatori sbagliano, ma là, secondo me, è anche l'allenatore che manda il messaggio sbagliato. E l'Europa League è già fuori. Non solo, ma domenica c'è il derby, dopo un'eliminazione così dall'Europa League, senza Immobile, senza Minicri Savici, che non ci voglio neanche pensare. Ed è già una stagione che potrebbe diventare fallimentare, ragazzi. Perché l'obiettivo al quarto posto, adesso, la situazione non è facilissima. Attenzione, c'è ancora tantissimo tempo, però, sai, stai andando nella direzione sbagliata. Perso contro la Salernitana, giochi il derby senza Immobile, Minicri Savici. Fra due domeniche c'è la Juventus. Che Dio c'è la mandi buona, perché se questa è la Lazio che deve giocare con il derby e poi con la Juventus, secondo me prendiamo otto. È una squadra, non lo so, senza mordente. Senza mordente, senza determinare... Io non lo so, io in campo, quando mi succedeva una cosa del genere, davo il massimo, tiravo fuori di tutto. Ma non contro l'arbitro, contro gli avversari e cercavo di trovare la via del pareggio. Invece questa Lazio si innervosisce e sparisce. Ma non volevo tanto parlare di ieri sera, ma di come la Lazio ha affrontato l'Europa League. Perché poi dobbiamo essere onesti. Il turnover lo devi fare. L'ho detto più volte, lo ribadisco, lo devi fare. Ma siamo sicuri che lo Stoongratz era meglio delle nostre riserve. Siamo sicuri che Mischland era più forte delle nostre riserve. Siamo sicuri che questo Fein non lo potevi battere con Isai, Cancellieri eccetera. Perché nel primo tempo, ieri la Lazio doveva chiudere avanti 3-0 e c'era Cancellieri in campo, c'era Isai, c'era Marcos Antonio eccetera eccetera. La realtà è che le riserve della Lazio erano sufficienti per vincere il girone. Sicuro. Il problema è come affronti le partite. Il Feyenoord l'ha giocata come se fosse una finale. Il Mischland è venuto a Roma, ha giocato come se fosse una finale. Lo Stoongratz ha giocato come se fosse una finale. La Lazio no. La Lazio no. E poi c'è un altro dato importante. Questa squadra, quando prende gol, va nel pallone. E per fortuna che per 6 partite non abbiamo preso gol, perché se no che succedeva? Contro la Salonitana prende un gol stupido e la Lazio ha smesso di giocare. Ieri sera è successo lo stesso. La Lazio ha preso il gol con Feyenoord è andata nel pallone. E questi sono segnali preoccupanti, ragazzi. Sono segnali preoccupanti. A cui vanno aggiunte altre performance. Nikoi Savic malissimo. L'Uso Alberto che ne è anche entrato in campo. Evidentemente non sta bene. Insomma, Lazari che onestamente ha fatto un primo tempo. Ha preso un giallo per un fallo stupidissimo, inutile. Questa squadra mi sembra in confusione dal punto di vista mentale. Ed è grave. Ed è grave. Perché intanto abbiamo fallito il primo appuntamento. Domenica c'è il derby. Se perdi vai a meno 5 dalla Roma. Cioè, è vero che c'è tempo. Ma hai già fallito un obiettivo. Adesso devi puntare tutto sul campionato. E adesso ti ritrovi messo malissimo. E poi, ripeto, secondo me ieri sera dovevi schierare la formazione migliore. Poi al derby vediamo chi recupera. Perché tanto non mi dite che adesso schieriamo la formazione di titolare. Che tanto non c'è. E vinciamo il derby. Io ho paura di vedere Luiz Alberto titolare al derby. Ho paura. Ma qua, veramente, è una squadra desolante. Desolante è il primo obiettivo a Dio. E mi fa veramente innervosire. Perché, ripeto, non c'era il Marsiglia e il Galatasaray. C'era lo Sturgratz, il Midtjylland e il Feyenoord. Tre squadre che la Lazio B deve vincere ogni singolo giorno. Con l'arbitro cornudo, con l'arbitro bravo, con la pioggia, con la neve, con il sole. La Lazio B, il Feyenoord, lo batte. Sempre. 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 Anche con Isai terzino destro. E invece no.